Per il dono della tua vita, i settant'anni sono arrivati, ma ne dimostri sempre di meno. Il nostro senso di gratitudine e di amore non è l'esaltazione idolatrica di un uomo, e anzi non per nulla per scontato anche la grazia di un incontro che si fa amicizia. Se siamo qui è perché in qualche modo è segnato anche le nostre vite. Con la testimonianza della tua vita, con le fragilità e i limiti che non hai mai nascosto, con la tenacia di non accontentarti mai, di scendere nella profondità dell'esistenza, condividendo con noi il Padre della Parola e dell'Eucaristia, dal quale dipende il senso di comunione e carità, che diventa visibile per te e per tanti di noi nel servizio ai poveri e ai misogliosi. Quanta cura vediamo tutti noi che metti nel servizio verso gli ultimi, quanta dedizione alle periferie esistenziali. Allora, caro Doni, il senso di questo momento, importante come ogni Eucaristia, nato dal cuore e dalla stima di Ilaria e dalla presenza di amici, autorità e binefattori, che ringraziamo per il sostegno non scontato, ma sempre prezioso, alle opere caritative che facciamo è gratitudine e amore. che tu li possa sentire all'inizio di questa celebrazione. Siamo qui a pregare con te e per te, per il dono della tua vita, ma anche per il prezioso dono del tuo ministero.